oddio si l'ho intravista l'ho intravista ragazzi ciao ragazze ciao ragazzi allora oggi vi farò vedere un po' di shopping vi faccio vedere le cosine che ho preso nell'ultimo periodo tra cui dobbiamo fare un mega unboxing ragazzi perché mi sono fatta un autoregalo pazzesco appunto da san loran e se avete visto uno dei miei video della scorsa settimana credo vi avevo chiesto di consigliarmi sui miei prossimi acquisti di lusso e questa è una cosina che in tantissimi mi avete consigliato quindi praticamente se l'ho acquistata è anche un po' colpa vostra ma devo dire che ero molto contenta che piacesse tanto anche a voi perché io sono veramente non so perché ci ho messo così tanto a prendere questa cosa ma appunto scoprirete tra un po' di che cosa si tratta poi voglio spocchettare con voi anche diverse cosine che ho preso su asos perché ultimamente mi avete chiesto in tanti di farvi vedere anche i miei acquisti magari low cost non solo quelli di lusso quindi lo faccio molto volentieri come sapete un paio di settimane fa ho preso il nuovo iphone 12 pro di questo non vi ho fatto un vero e proprio unboxing in realtà ma lo avete visto insomma in qualche vlog già e appunto ho preso la versione dorata e siccome volevo prendere sul sito apple la solita cover con la batteria integrata perché è utilissima la adoravo per il mio iphone 10s e invece per questo ancora non l'hanno fatta però siccome non voglio che si rovini ok ho preso due custodie mi avete consigliato di guardare su amazon ed effettivamente ho trovato molte cosine carine e ho preso due le sto spacchettando con voi perché non le ho ancora viste ma ho preso appunto due custodie non ho preso però lo screen protector e mi sa che devo assolutamente prenderlo allora la prima e questa ed è rosa pastello molto chiara e opaca tipo gommosa è il brand non so se riuscite a leggerlo ma è elago e all'interno ci sono anche due adesivi con il nome del brand molto carini e poi sempre di questo brand uguale identica l'ho presa anche in un altro colore che è questo bellissimo bellissimo lilla chiaro con le luci sparaflesciate non so se riuscite a vederli benissimo i colori ma sono appunto molto pastellosi molto primaverili secondo me quindi nel frattempo che aspetto appunto che esca il case con la batteria intanto questo consigliatemi comunque se conoscete dei siti carini per ordinare altre cover che magari sono un pochino più particolari finalmente il mio iphone alla cover ragazzi sono troppo troppo contenta poi se avete visto il mio vlog di ieri c'erano alcune scene in cui inquadravo i negozi chiusi e l'unico negozio aperto era questa farmacia erboristeria e oggi ci sono ripassata davanti e ho visto delle cosine troppo carine che ho voluto assolutamente prendere sono delle bombe da bagno ma sono veramente troppo troppo carine c'è questa che sa di fresco ed ha questa rosa rossa troppo carina poi c'è questa rosa che è super dolce e ha questo cuoricino poi questa mi sa che era la happy birthday una cosa del genere perché ha tutti questi tipo come gli zuccherini che metteremo su un dolce sono troppo belle e un'altra che ho preso è questa rosa sempre con la rosellina sopra e un'altra cosina che ho preso e queste non le avevo mai provate sono delle shower bomb quindi sono dei cioè sapevo che esistessero però non le ho mai provate sono delle piccole bombe da bagno che però si mettono sul fondo della doccia e quindi con l'aromaterapia profumano tutta la doccia eccetera ed ho preso questa giusto per provarla questa è alla lavanda e poi un'altra cosina che ho preso vabbè niente di interessante ma mi serviva una cioè una di queste scatoline per il sapone in realtà è il sapone che uso per pulire la beauty blender e quindi ho preso questa arriviamo alle cosine che ho preso su asos faccio spesso shopping da asos perché trovo sempre qualcosa che mi piace incredibile ma se sono alla ricerca di un capo particolare o di una maglia di un colore particolare lì li trovo non voglio dire sempre ma il 99% delle volte trovo sempre qualcosa che mi piace la prima cosina che ho preso è questo top fucsia che molto primaverile in realtà è completamente stropicciato quindi devo assolutamente stirarlo prima di indossarlo però mi piaceva di questo tantissimo tantissimo il colore credo che tutte le tonalità del rosa dell'azzurro mi stiano bene e quindi ho voluto vabbè adesso con questo rossetto probabilmente no però ho voluto appunto prenderlo non appena l'ho visto mi sono detta wow mio perché era uno dei nuovi arrivi poi ho preso questi dovrebbero essere sì ho preso in realtà questi già li avevo ma i pantaloni fatti appunto così in similpelle lucida sono estremamente estremamente delicati e quindi quando li metto devo sempre stare attenta perché li rovino con le unghie ed è così che ho rovinato l'altro paio di pantaloni che avevo uguali identici quindi appunto ne ho preso un altro paio una cosa che amo di asos è che c'è la linea tol perché se c'è un problema che io ho con i pantaloni della linea standard o comunque con tutti i pantaloni in generale non solo su asos è che mi stanno tutti tanto corti cioè mi arrivano tutti a volte addirittura a metà polpaccio un pantalone che dovrebbe arrivare alla caviglia quindi su asos non mi sbaglio mai perché la linea tol per quanto riguarda i top mi aiuta più che altro sulle maniche però i pantaloni almeno così riesco ad averli di una lunghezza normale perché io non so voi ma detesto avere i pantaloni troppo corti cioè se c'è un modello che deve stare lungo e a me arriva molto sopra la caviglia non è una cosa che mi piace e in più non slancia la figura perché i pantaloni più lunghi che arrivano appunto fino alla caviglia slanciano molto la figura i pantaloni a metà polpaccio invece almeno su di me sono terribili quindi con questi so che infatti sono stralunghi non so se si riesce a capire in videocamera ma sono stralunghi e appunto adoro 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 finalmente ne ho preso un altro paio poi ho preso questo paio di mamma jeans quindi sono dei pantaloni che stanno assolutamente comodi non sono attillati e anche questi sono della linea tol appunto se trovo pantaloni della linea tol che mi piacciono cerco sempre cioè se trovo dei pantaloni che mi piacciono cerco sempre di vedere se ci sono in versione tol perché vado più sul sicuro infatti anche questi sono lunghissimi però con i mam jeans i boyfriend jeans se sono un po più lunghi posso semplicemente piegarli in fondo diciamo che sto un po cercando di transitare dalla tuta ai jeans e penso che l'unico modo per farlo sia appunto con i mam o i boyfriend jeans che sono super comodi super larghi appunto questi so che li userò perché sono molto comodi e infine gli unici jeans che sto usando nell'ultimo anno sono proprio o i mam o i boyfriend poi ho preso questo body che non so se mi convince tantissimo perché è fatto a costine e non so se me ne ero accorta ordinandolo però mi piaceva la forma perché è assolutamente super sgambato quindi mi piacciono questi body così un po più vedo non vedo però sì appunto non so se mi convince tantissimo il fatto che sia a costine perché i capi a costine tendono secondo me ad allargarsi tantissimo quindi devo provarlo e vedere se la taglia è giusta per me mi piaceva anche il fatto che fosse a manica lunga in modo da poterlo magari indossare appunto non solo in estate ma anche in primavera quando non fa ancora caldissimo poi sempre della linea tol ho preso un altro paio di pantaloni in finta pelle questi però non sono lucidi come gli altri sono più decisamente più opachi e sono cioè hanno questo elastico eccolo cioè hanno questa fascia in vita che va appunto a chiudersi a formare un fiocco e anche questi sono molto molto comodi mentre gli altri sono un pochino più attillati questi sono molto morbidi molto comodi era da un po' che li volevo ma li avevo già trovati su asos e poi sono andati sold out e poi mi sono detta ok aspettiamo poi sono usciti nella linea tol ma anche quelli erano andati sold out e adesso sono ritornati e finalmente sono riuscita ad accapararmeli perché alcune cose su asos se non le becchi subito veramente vanno sold out in un nanosecondo anche quelle anche i capi della linea tol poi ho preso questo che dovrebbe essere il top e sì sì è un top molto semplice è molto carino secondo me è corto con il fiocco qui non è niente di speciale niente di particolare però mi piaceva magari da abbinare ad un paio di jeans ma amo comunque comodi mi è piaciuto molto mi piace anche che ci sia uno scollo così ampio abbiamo finito con le cosine di asos quindi direi arriviamo al super mega autoregalo che mi sono fatta da san loran se sapete di che cosa si tratta perché avete già visto l'altro video non spoileratelo nei commenti mi raccomando e andiamo a fare la mia solita musichetta che in realtà tutti i miei pacchi perché non c'è la scatola c'è direttamente solo la dust bag questo è un po' strano di solito mi arriva la scatola il bello è che tutti i miei pacchi tutti praticamente tutti i pacchi che mi stanno arrivando dai brand sono bloccati da qualche parte in europa o per via del covid o per via del maltempo eccetera invece il pacco san loran in barba tutto è arrivato in due giorni lavorativi una cosa del genere è stato velocissimo però sì perché non mi hanno messo la box io volevo anche la scatola san loran perché non mi avete messo la scatola di solito quando vado in boutique mi danno sia la scatola che la dust bag e qui non c'è sta cosa non lo so mi dà un po' fastidio se devo essere onesta ma oddio si l'ho intravista l'ho intravista ragazzi avrete capito che si tratta di una borsa ma non è una borsa qualsiasi è il modello più grande che san loran ha ok ed è questa o almeno perlomeno di questo modello sicuramente è bellissima non l'avevo mai vista dal vivo cioè magari in negozio le interviste però non l'avevo mai vista così bene così da vicino e la amo c'è è bellissima è veramente bellissima e sembra super super spaziosa ed effettivamente lo è ragazzi guardate che roba c'è un sacco un sacco di spazio e volevo proprio una borsa che fosse magari una borsa da ogni giorno una borsa da viaggio comunque che ci stesse un sacco di roba e ragazzi qua c'è sono andata veramente a colpo sicuro è gigantesca è bellissima la pelle è super super morbida tra l'altro adesso devo trovare un posto dove metterla perché la dietro è praticamente già tutto pieno comunque faremo un po' di spazio per la mia nuova baby ma sono e tra l'altro anche con l'outfit di oggi ci sta da dio ragazzi no vabbè sono troppo contenta per questo acquisto non so onestamente perché ci ho messo tanto a prenderla perché le borse san loran mi piacciono molto e sapevo che avevano un modello così grande e non lo so non ci ho mai fatto caso ma è troppo troppo bella sotto ci sono questi piccoli cosini per appoggiarla sono molto utili perché così non si rischia di rovinare il fondo ma appunto la appoggiamo direttamente sul metallo e c'è anche la possibilità di allungare la catena in modo da indossarla direttamente così o a tracolla io la adoro cioè non ci posso credere che sia e poi non mi aspettavo che fosse così grande cioè ancora meglio veramente di come me l'aspettavo amo il logo san loran amo il colore dell'hardware delle borse san loran perché non sono l'oro non è troppo giallo ma non è neanche troppo bianco perché alcuni hardware per esempio quello champagne di chanel sotto alcune luci sembra quasi argentato invece l'hardware di san loran è perfetto è dorato ma al punto giusto non è giallo arancio la adoro troppo dietro è semplice così e mi sembra anche che tutto sommato nonostante sia una borsa morbida e anche abbastanza rigida e quindi penso che terrà molto molto bene anche la sua forma anche se in realtà ho una san loran così rosa più piccolina e tiene la forma alla perfezione ma l'importante è sempre appunto riporre le borse teoricamente la cosa migliore sarebbe tenerle nella dust bag in modo che non prendano luce non prendano polvere eccetera però se come me riuscite a farle stare in una posizione che non ha la luce diretta del sole la cosa migliore comunque per mantenere la forma è sempre comunque riempirle quando non le utilizziamo e quello che faccio io è vado a metterci o la dust bag o direttamente tutta la carta e gli involucri che che ti arrivano quando la compri e questo è il mio mega mega acquisto della settimana non ho assolutamente una scusa per aver fatto questo acquisto non c'è nessun tipo di ricorrenza beh in realtà potrebbe essere visto che questo acquisto l'ho fatto praticamente il giorno prima di san valentino o la sera prima di san valentino potrebbe tranquillamente essere il mio regalo per me stessa per san valentino non che io abbia bisogno di trovare una scusa per farmi un regalo perché se mi conoscete bene sapete che non è il caso mio però posso veramente dire che sia stato il mio regalo da me per me per san valentino adoro 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 troppo adesso la tengo qui perché mi piace troppo quindi mia family questo è quanto per il video di oggi spero che vi sia piaciuto questo piccolo video con un po' del mio ultimo shopping dell'ultimo periodo piccole cosine quindi vi mando un bacio enorme venite qua che vi abbraccio forte forte fortissimo per me è mercoledì ma voi vedrete questo video domani che è giovedì perché siete sempre nel futuro quindi noi ci vediamo domani che è venerdì per voi con l'ultimo video della settimana ciao ciao